Non devi stigare, non devi stigare. Manifestazione pubblica quale? Non devi stigare. Quando hai parlato di cena di mezzo al commercio, hai sputato fuoco e fango su tutto il commercio. Le tue dichiarazioni in fatto di commercio sono state sempre denigranti nei confronti di una categoria che anche se... Chiedo scusa Gian Graff, anche Fanelli cortesemente. Anche Fanelli, grazie. Chiedo scusa Gian Graff, con tanto di rispetto verso la categoria, siccome io da consigliere abito normalmente in Cesare Battesti, allora inviterei la categoria per quanto riguarda Cesare Battesti a farsi un giro e vedere il parcheggio di Piazza Ecco da quando è stato aperto. Tu non sai di che cosa stai parlando? Non sai di che cosa stai parlando? Ti dicono! Di che cosa stai parlando? Non sai di che cosa stai parlando? Siamo tra persone serie. E sapevano... E sapevano... Non sai di che cosa stai parlando? E sapevano che cosa era stato detto riguardo Cesare Battesti. Non sai di che cosa stai parlando? Fateci... Dateci il nuovo parcheggio che non c'è più doppia fila. Vero, vero, vero. Siamo tra persone serie noi, eh. Siamo tra tre persone serie. Ha fatto il casino dieci anni fa quando lo ha messo il parcheggio a pagamento sotto casa sua.